Ciao ragazzi, estrazione del contest Oh 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 oh, c'è qua l'estermingo in linea Saluta 3 posti Eh? 3 posti 3 posti, facciamo a 3 posti il coso Iniziamo Terzo posto, vediamo Questo al terzo posto Ed è Ho buttato fuori il biglietto di Mr. Mingo Eh ragazzi Non scherzo Yu-Gi-Oh Collection Al terzo posto Al secondo Questo Alboibra 99 No E al primo posto Questo? Sì dai Ma questo sta coso la Ehm, come cazzo si chiama? L'avevo messo prima ma non è lui Lui non partecipava Vediamo Eh? E che cacchio è successo allora? Eh che praticamente l'ho buttato fuori perché non partecipava Pensavo avesse fatto il video di risposta ma non l'ha fatto Bastardo Sto mischiando E ecco qua il fortunato vincitore Che è Aspetta che No, ho sbagliato Non ci crederete Ma su sette probabilità C'è su sette probabilità È uscito Il nome Di Questo frocio Chi sarebbe? Tu Testa di cazzo Hai vinto Mr. Mingo 2 00 00 00 Eh? E alla fine che ho vinto? Una sega? Hai vinto Hai vinto un JD Common Un Grandmaster Common Più altra roba Complimenti Complimenti anche a Alboibra99 E a Yu-Gi-Oh! Collection E a uno vinto? E gli altri due non mi ricordo i premi Poi li tirerò fuori Ricordo che al secondo o al terzo era Buffone Grasso Più qualcosa È vero Alla prossima Alla prossima